Ciao a tutti gli amici della Siritide, stiamo rientrando dalla trasferta in Croazia, abbiamo conquistato una medaglia d'oro ed una di bronzo alla Coppa del Mondo e colgo l'occasione per ringraziare fin da subito il centro sportivo esercito che mi ha appena arruolata, quindi ho coronato questo arruolamento nel migliore dei modi. Ne sono assolutamente soddisfatta anche io di questa interessantissima gara ed esperienza e ne ho riportato una prestigiosa medaglia di bronzo. Saluto affettuosamente con un grande bacio Maria Paola. Mi associo ai saluti di Terriana e Orsola, ne approfitto naturalmente per salutare il mio amico Giuseppe Panaino perché qua si parla solo di Maria Paola, naturalmente tutto lo staff della Siritide. è stata un'esperienza assolutamente straordinaria e che abbiamo coronato con una medaglia d'oro e una di bronzo e non posso che ritenermi soddisfatto. Ciao a tutti e buona giornata a tutti i colorati che stanno ascoltando e ai nostri sostenitori. Ciao!